Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni. Bentornati all'appuntamento con le meteo di TV6. L'anticiclone subtropicale ancora invade la nostra penisola, tutto il Mediterraneo lo farà con molta probabilità per buona parte della prossima settimana. La situazione in Italia quindi vede lontane le perturbazioni che scorrono sull'Europa centro-settentrionale, quindi anche in Abruzzo. Sappiamo a che fare con giorni pienamente estivi, molto molto caldi. Per quanto riguarda questo sabato 2 luglio, dominio totale del sole su tutta la regione, nessun rischio di fenomeni, qualche pensamento pomerigliano sui monti, però non ci saranno fenomeni annessi. Le temperature stazionarie, un leggerissimo aumento, massime tra i 31 e i 33 gradi, però sarà caldo particolarmente a foso, considerando che i tassi di umidità saranno abbastanza alti, in particolar modo lunghi tratti costieri a ridosso dei fiumi, le minime, comprese tra i 19 e i 24 gradi. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. Letizia Costruzioni, realizziamo i tuoi sogni.